Grazie signore anche per quest'anno, per questa bellissima festa di Casandrino, per tutti coloro che hanno partecipato a realizzare questa festa bellissima, con questi voi che sono una cosa stupenda, con tutti quanti loro che veramente hanno dato il cuore e l'anima per la festa di Casandrino, per faggerire sempre di più la Madonna. Noi adesso vi salutiamo e concludiamo perché già qua la festeggiamo. Grazie.